Buon pomeriggio a tutti, buona domenica. Sono le 5 in punto del 29 luglio, domenica di pienissima estate. Vi spero, come dire, almeno in vacanza o a riposo in questa giornata molto calda. Naturalmente, come faccio di solito, vi invito immediatamente a premere la freccetta della condivisione di questa diretta in modo tale da allargare il numero delle persone che ci seguono. Naturalmente, ricordo che ove mai non mi poteste vedere in diretta, poi il video di questo incontro resta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook dalla quale probabilmente mi state guardando e poi lo carico anche su YouTube. Quindi, ovviamente, lo troverete online molto facilmente. Posso già dirvi che l'appuntamento di domani ritorna all'ora tradizionale delle 14.30. Sarò ancora a Milano, per ritorno domani sera a Roma, perché dal martedì avremo il famoso decreto disoccupazione che arriva in aula e quindi poi approfitterò durante la settimana per aggiornarvi su come procedono i lavori parlamentari, sugli emendamenti approvati o non approvati, insomma su quello che succede in aula. Come faccio di solito, utilizzo queste dirette anche per raccontarvi un po' di come va. Naturalmente, quello che succede quando sono in Parlamento è che devo trovare il tempo materiale per andare in diretta e anche lo spazio fisico, perché come chi mi conosce, chi mi segue da tanto sa, poi devo trovare un angolo all'interno della Camera dei Deputati, ma insomma sapete che ci provo e che alla fine riusciamo a vederci. Per questa domenica un paio di riflessioni, ritorno su una questione che avevamo già sollevato ieri, che è la proposta, questa proposta oscena, io non saprei come altro a definirla, veramente straordinariamente sbagliata, della proposta di Marcello Focan come presidente della Rai. È una proposta sbagliatissima perché la figura del presidente della Rai deve essere naturalmente una figura di garanzia, tra l'altro la legge prevede che il presidente sia confermato con una maggioranza molto ampia in commissione di vigilanza, servono 27 voti su 40, proprio perché la legge vuole che la figura che viene individuata, che naturalmente viene disegnata dalla maggioranza, dalle forze di governo, deve essere una figura riconosciuta come una figura equilibrata, una figura di garanzia. Non dimentichiamo che la Rai è la principale azienda culturale del Paese e quindi, sebbene sia comprensibile che poi la persona disegnata esprima un orientamento, faccia parte di un'area politica culturale, deve essere comunque una figura percepita come una figura di garanzia. Marcello Focan non lo è, è quasi una macchietta del sovranismo. Se mi dovessi trovare qualcuno che rappresenta nel modo più greve tutte quelle che sono le caratteristiche del sovranista anti-euro, anti-vaccini, pro-Putin, complottista... Questo Focan le ha tutte, insomma, averlo voluto trovare così si faceva fatica e invece ce l'avevano pronto, tra l'altro al Corriere del Ticino c'è stato un tweet di una gentile signora che è stato avuto molto successo e che ha detto grazie che ve lo prendete, grazie dalla Svizzera italiana che ve lo riportate in Rai, dateci Piero Angela e Alberto Angela che tanto la Rai con Foa diventerà un posto delle fake news, non vi interesserà più di avere programmi divulgativi seri, quindi vi diamo Foa, dicono dalla Svizzera, dateci Piero e Alberto Angela. Naturalmente noi Piero e Alberto Angela ci riteniamo stretti e francamente lasceremmo volentieri sulle rive di qualche lago svizzero il nostro amico Marcello Foa che appunto è uno che ha dato del disgustoso al Presidente della Repubblica, uno che ha detto che Bin Laden non esiste, uno che dice che appunto i vaccini non sono necessari, un amico di Putin e uno ospite fisso di Russia Today che è l'emittente in lingua inglese vicinissima al governo russo, quindi diciamo così se sospettavamo che Salvini e la Lega avessero dei legami anche di gratitudine nei confronti della Russia e di Putin, adesso con la nomina di questo Presidente, uno che tra l'altro come dire rituita i produttori di fake news, uno che è molto attivo anche sui social network. Ora naturalmente Foa da quando è stato individuato o designato come Presidente della Rai sta facendo come dire, sta venendo a più miti consigli e da come dire un'immagine di sé molto più prudente, però in realtà questa è una nomina che veramente non si può digerire, è una nomina sbagliata, è una nomina che ancora una volta dimostra tra l'altro, perché la nomina, diciamo l'individuazione del candidato viene dalla Lega, ma il Movimento 5 Stelle appoggia questa candidatura a totocorde, lo fa con grande entusiasmo, questa dimostrazione ancora una volta che il Movimento 5 Stelle non ha nulla di diverso, cioè è diverso nelle modalità dalla Lega, ma sempre di una bella destra estrema, sovranista, insomma si tratta sempre di quelli che hanno fatto il gruppo con Nigel Farage al Parlamento Europeo, questo non ce lo dimentichiamo, Di Maio è assolutamente sulla candidatura di Marcello Foa, però come dicevo questa operazione non è completata perché servono 27 voti in commissione bicamerale di vigilanza e i 27 voti non ci sono, tra Grillini e Leghisti i numeri arrivano, il pallottoliere arriva a 21 e per arrivare a 27 saranno necessari i voti di Forza Italia. Io nella mia diretta di ieri vi avevo detto di scrivere ai commissari di Forza Italia in commissione di vigilanza, alle due capigruppo Gelmini e Bernini e Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, per farvi sentire, ecco, per bloccare questa nomina, in realtà i giornali di oggi che cosa ci raccontano? Ci raccontano di un Berlusconi molto arrabbiato perché pare che non siano stati consultati, pare che soltanto Licia Ronsulli abbia ricevuto una telefonata da Salvini che diceva abbiamo scelto Foa, vi piacerà, e quindi Berlusconi sembra molto irritato da questa nomina e minaccia di non votare. Purtroppo è soltanto una minaccia perché dicono che decideranno mercoledì e l'impressione, diciamolo con tutta chiarezza, è che sotto ci sia una trattativa perché Salvini minaccia di rompere l'alleanza se Forza Italia non addiverrà a più miti consigli e non voterà per Foa e però questo dire che decideremo mercoledì sembra quasi come se Berlusconi stia un po' trattando per qualche direzione di rete o qualche direzione di telegiornale, però questo io penso sarebbe, non so neanche quanto compreso dai residui elettori di Forza Italia che andrebbero in sostanza poi a portare ulteriori energie, a vedere il proprio partito portare ulteriori energie verso appunto il sovranismo della Lega di Salvini e quindi diciamo il lavoro all'acre che si sta facendo per far sparire Forza Italia e farla fagocitare dalla Lega sarebbe così completato. Quindi vedremo se Forza Italia terrà la schiena dritta, ho letto le dichiarazioni di uno come Giorgio Moulet che sta facendo, devo dire quando lo ascolto alla Camera dei Deputati, sempre dei discorsi anche molto forti di un'opposizione diciamo solida, vediamo se questa opposizione procederà o se non ci sarà una trattativa sotto banco e quindi saremo costretti a tenerci Foa. Noi del PD naturalmente faremo tutto quello che possiamo per bloccare questa nomina, le mie parole in questa diretta fanno parte del tutto quello che vogliamo fare quindi della sensibilizzazione dell'opinione pubblica però come dico sempre in questa fase storica la politica non lasciamola fare soltanto ai nostri rappresentanti nelle istituzioni, a gente come me, potete fare molte cose anche voi, potete utilizzare i social media, potete utilizzare le vostre email, si deve fare veramente tutto il possibile. Ripeto, la presidenza della RAI nelle mani di uno che dice che i vaccini non servono, che Bin Laden è un'invenzione, che il Presidente della Repubblica è disgustoso e che va a braccetto con Vladimir Putin, io penso che l'Italia, diciamo, questo ulteriore sfregio, questo ulteriore manrovescio sul volto dell'Italia sarebbe auspicabile evitarlo. Vi chiedo sempre di condividere e passiamo al prossimo argomento che è comunque un argomento vicino a quello di cui stiamo già parlando, riguarda un editoriale che mi è molto colpito che è uscito oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera, firmato da Fontana, il direttore del Corriere della Sera, che è un editoriale molto molto severo nei confronti del governo. Io devo dire che già la stampa, soprattutto negli ultimi giorni dopo le famose non decisioni del Ministro sviluppo economico Di Maio sulla TAV, sulla TAP, sull'ILVA, sull'ALITALIA, da più parti, soprattutto perché un certo mondo imprenditoriale, anche il mondo imprenditoriale del Nord Italia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, si stanno lamentando tutti i luoghi, soprattutto penso al Veneto, luoghi dove ci sono grandi serbatoi di voti per la Lega, si stanno lamentando per esempio del decreto cosiddetto dignità, ma chiamiamolo pure decreto disoccupazione, perché quella produce, perché naturalmente la visione economica e del paese che questo governo sta trasmettendo, in particolare nelle figure di Di Maio e Toninelli, è un, come dice giustamente anche il direttore Fontana, è l'immagine di un paese che non progredisce, che non investe sulle sue infrastrutture principali, poi la notizia della TAV, del ritiro dalla TAV è stata particolarmente forte, un paese che dimostra di essere completamente inaffidabile e quindi inaffidabile anche nei confronti degli investitori internazionali che volessero investire nel nostro paese, un paese che si sottrae alle sfide della globalizzazione, alle sfide globali, alle sfide del nostro tempo, un paese che ha paura, dice Fontana, guardate c'è stato di recente un sondaggio che dice che gli italiani aspirano soprattutto a un lavoro nella pubblica amministrazione, quindi l'idea di uno Stato che dà il reddito di cittadinanza, uno Stato che pensa a tutto, bisogna, come dire, si può star fermi sul divano e arriverà qualcuno a offrirti un bellissimo posto nella pubblica amministrazione, un po' come succedeva nella Prima Repubblica, quando il Ministro delle Poste assumeva tutte le persone del suo collegio come postini, anche se magari le poste di quei postini non avevano bisogno, ma tanto che fa, facciamo, come dire, diamo stipendi a carico del debito pubblico e poi un giorno qualcuno quel debito pubblico lo pagherà, cioè noi anni dopo. Ed è un po' quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle. Ora, io sono stato, come dire, da un certo punto di vista anche sollevato da questo editoriale di Fontana, così come dai vari articoli che effettivamente stanno uscendo sui grandi giornali, sulla grande stampa italiana, però devo dire anche che da un certo punto di vista mi sono un po', come dire, stupito per metterla giù in modo gentile, nel senso che in realtà il Movimento 5 Stelle non è che stia facendo delle cose che non sapevamo, il Movimento 5 Stelle, per intenderci, è quello che ha deciso per esempio di non fare le Olimpiadi a Roma perché, per timore che le Olimpiadi fossero causa, diciamo, di malaffare o di corruzione. Quindi che cosa fa il Movimento 5 Stelle in quella fase? Dice, noi non è che combattiamo il malaffare, noi combattiamo il progetto di fare le Olimpiadi a Roma. Quindi, poiché non siamo in grado di combattere il malaffare, non creiamo l'occasione per il malaffare. E se Roma deve rinunciare a investimenti, a sviluppo, io vivo a Milano e vedo quanto Milano è cambiata dopo Expo, ecco, se avessimo fatto così anche noi sull'Expo a Milano, Milano non sarebbe la città incredibile che è diventata in questo periodo. Io vi ricordo che soltanto un paio di giorni fa ha aperto un negozio Apple nel centro di Milano, si è resa bellissima, una piccola piazza centralissima, piazza Liberty, ha oggi un'architettura di Norman Foster, non è soltanto un negozio. E anche l'ingresso di Milano nel network delle città globali, in settembre aprirà Starbucks. Quindi Milano a pieno titolo è diventata una delle grandi città internazionali dove anche questi investitori esteri vogliono mettere il loro piede per dimostrare di esserci. Roma è una città nella quale i giornali sono costretti a parlare perché bruciano gli autobus. Ecco, c'è stato un reportage soltanto qualche giorno fa su Repubblica che raccontava dei 10 autobus che sono andati in fiamme perché non si fa manutenzione. L'Atac spende un decimo di quanto spenda l'ATM per la manutenzione degli autobus e quindi basta una scintilla su queste macchine vecchie sporche di grasso, di umuto, di benzina per farli andare a fuoco. Allora, e che cosa dice il Movimento 5 Stelle? Noi non investiamo sulla città perché temiamo la corruzione. E sappiamo benissimo che hanno sempre sostenuto la tesi di non fare la TAP, di chiudere l'ILVA, addirittura Grillo ne voleva fare un parco giochi, un po' quella famosa decrescita felice di cui si parla tanto, per cui stavamo tanto meglio quando stavamo peggio, quando l'aspettativa di vita non era di 80 e passa anni ma magari si tiravano le cuoia quando si aveva la mia età o meno della mia età. Ecco, allora, il fatto che però oggi la grande stampa se ne stupisca stupisce me perché non è niente di nuovo. Cioè, il Movimento 5 Stelle ha sempre promesso di far questo, in un certo senso bisogna anche riconoscere la coerenza. Però mi chiedo, quando tutto questo stava arrivando, la grande stampa italiana dov'era? Io questo vorrei sapere. I nostri analisti, i nostri commentatori, gli editorialisti che oggi dicono, ah, il decreto dignità introduce delle rigidità, diminuirà l'occupazione, non si sa che cosa accadrà, vogliono bloccare la TAV, escludere l'Italia da un canale di comunicazione importantissimo come l'alta velocità ferroviaria e quindi dovremo pagare delle penali, saremo esclusi dai finanziamenti europei. Oggi dicono questo, ma quando tutto questo era chiaramente all'orizzonte, perché i nostri governi, Renzi e Gentiloni, che facevano cose buone, sane, con tutti gli errori del caso. Io adesso non voglio santificare nessuno, però certamente noi non abbiamo messo un fo' alla RAI e non abbiamo azzerato nel modo in cui abbiamo visto le ferrovie. Sicuramente, io adesso, ripeto, non voglio santificare nessuno e sono certo che le persone che abbiamo nominato nelle varie, quando sono state fatte le nomine erano persone anche di area, ma credo che nessuno possa dire una parola su tutti i dirigenti delle partecipazioni che sono stati nominati. Ecco, però quella stampa ci ha sempre, coerentemente e senza mai prendersi una pausa, bastonato quando ce lo meritavamo, ma posso dire la verità anche quando non ce lo meritavamo. Io ricordo qualche mese fa, quando Standard & Poor's, per la prima volta, ha fatto l'upgrading dell'Italia dopo 15 anni per la prima volta, praticamente, forse tranne il sole 24 ore, nessun giornale ne parlò con evidenza. Ricordo che Repubblica titolò quel giorno la grande frattura nel PD. Io dico, vabbè, sarà che il PD di frattura ne aveva più di una, ma il giorno in cui, dopo 15 anni, per la prima volta, una grande agenzia di rating promuove il nostro debito pubblico, è mai possibile che non se ne parli in prima pagina. E dire che quando Standard & Poor's ci declassa, se ne parla in prima pagina, viva Dio. E allora oggi, come dire, accolgo con piacere i rilievi e le critiche del direttore Fontana, però, francamente, continuo a chiedermi se, per caso, i nostri editorialisti, i nostri commentatori, vedevano in Luigi Di Maio un nuovo Pericle e in Matteo Salvini un nuovo Lorenzo in Magnifico. Oh, si rendevano conto di com'erano. Ecco, questa è una cosa che veramente mi incuriosisce. Comunque, meglio tardi che mai e quindi speriamo che la Libera Stampa faccia il suo lavoro di critica con la stessa diligenza e la stessa... nel modo metodico in cui lo ha fatto su di noi. Io mi fermo qui. Soltanto una parola, però, per dirvi che il 16 agosto è il mio compleanno, ma non era tanto questo che volevo dirvi, e che, come sapete, Facebook consente, quando si avvicina il proprio compleanno, di fare una raccolta fondi. E io, quest'anno, ho deciso di chiedere ai miei amici di non farmi regali, ma di partecipare a questa raccolta fondi e ho individuato come, diciamo, l'associazione no profit alla quale devolvere questi fondi, la fondazione TOG, che è una fondazione che sta qui a Milano e che si occupa di bambini che hanno delle malattie neurologiche complesse e si occupano soprattutto di assicurare a questi bambini la rieducazione e la riabilitazione che è fondamentale che abbiano immediatamente non appena appunto si ottiene la diagnosi. È una fondazione fatta da persone che conosco e il cui amore, la cui dedizione, la cui professionalità sono assolutamente straordinarie e quindi volevo dire anche a voi, anche se non ci conosciamo personalmente, di andare sulla mia pagina Facebook e di lasciare anche semplicemente la donazione per un caffè. Basta quella. È un modo, secondo me, più buono e più bello di festeggiare una ricorrenza come quella del mio compleanno che poi cade appunto nel pieno dell'estate quindi in quel momento poi magari non ci sarà tempo che mi facciate gli auguri. Fatemeli così, sarà il modo più bello per farmeli e se i soldi vanno a TOG io so che sono in ottime, ottime, ottime mani. Mi fermo qui appunto, questa volta davvero, chiedendovi come al solito di pigiare la freccetta su condividi e dandovi appuntamento per domani all'ora solita, cioè alle 14.30 che è l'ora nella quale ci vediamo normalmente durante i giorni feriali, ancora da Milano perché poi appunto parto per Roma nel pomeriggio e poi come ho detto ci sentiremo durante la settimana da Montecitorio. Grazie a tutti e buona domenica sera. Ciao!